Eccoci tornati ad Half-Life 2 Dastardo Maledetto Ok Andiamo qua dove ci porta Chi è? Dastardo Vieni vieni Schifo sono ce l'altro No va il diavolo Poi mi lagga Schifo E che cacchio dai L'altro butto Dove lo dobbiamo arrivare? No 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 Cacchio Oh Quello che ho pensato io Non so Come si può Ho già detto Rivelate fratture di neuroentità Sì 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 Io salvo Sì Sì Fanchiola Che cosa sono io? Non lo so Si scarica subito il coso Non c'è una galleria Un buco Andare subito sotto Non penso sia giusto salire non possiamo risalire a sopra non mi sembra che ci sia niente no proprio non c'è niente c'è questo fascio di luce qua dobbiamo riputarci giù si credo di sì facciamo tutto tu dici da qua siamo venuti noi no 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 non non c'è niente oi no 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 c'è niente Sì, sì. Oh! C'è un bravo. Capito! C'è un bravo. C'è un bravo. All'affanculo! Stardo! Non basta niente. Non basta niente. Non basta niente. C'è un bravo. C'è un bravo. C'è un bravo. Allora, devo andare. Aspettiamo che puoi fuori questo qua. C'è un bravo. 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 fame. Siete? Siamo riusciti a passare quell'inferno. Che cacchia è quella cosa? Ah, che cosa ci sono? Ma siamo a Livermon. Chi è? Siamo a Livermon. Livermon. No, siamo usciti. Come mai? Quelle bestie sono arrivate per qua fuori. Non è… Non è... Ci sono i due. Non è... C'è un bravo. Non è… Non è… Non è… non è fucile non si è bastato ok chiudiamo qua siamo usciti chiuderete da quell'inferno chiudiamo qua il video da me il grande potente Oz e Mr. G ciao